Chiedi e ti sarà dato, forse, il titolo che ho scelto per questo film documentario. Se hai scelto di vedere questo DVD, probabilmente hai anche tu già conosciuto, ho avuto qualche esperienza con quella cosiddetta legge d'attrazione. E' quello che feci anch'io. Io ero un estremo scettico, non credevo a nulla. Poi un giorno ho letto il libro The Secret e mi incuriosì. Ero convinto che erano tutte cavolate, però mi mise un dubbio. Ma se qualcosa di quello che era scritto fosse vero? Iniziai a chiedere, a chiedere all'universo, a mandare le mie intenzioni. Eppure stranamente, alcune cose si realizzavano, alcune altre no. C'era qualcosa in quello che avevo studiato, che non funzionava sempre. E allora decisi di approfondire. Conobbi la fisica quantistica, approfondi sempre di più. Studiai, feci testa, feci approfondimenti su me stesso, lavorai tanto su me stesso, per poi scoprire che, in effetti, c'era qualcosa che mancava. In effetti, sui libri, sui corsi, sugli mp3 che si trovano in giro, c'era qualcosa che non ci veniva detto. In effetti, non era poi così tanto facile come ci veniva riscritto. Non era neanche tanto difficile, ma mancava qualche dettaglio. Ho passato gli ultimi quattro anni della mia vita a studiare, approfondire, insegnare, sperimentare nuove tecniche, nuove consapevolezze, sempre su più persone. In questi quattro anni ho scoperto come inviare una reale intenzione, come formulare un'intenzione, come dobbiamo essere in equilibrio con noi stessi per poter formulare un'intenzione, come va definita un'intenzione, e soprattutto come va inviata, e come va ricevuto quello che l'universo ci manderà indietro, a risposta delle nostre richieste. Ho scoperto anche che ci sono posti nella Terra in cui quello che chiediamo viene ascoltato. Ovvero, ci sono posti nella Terra in cui il nostro canale di comunicazione con l'universo è molto più potente. Quello che vedi alle mie spalle è uno di questi posti, l'Egitto. Le immagini che stai vedendo sono state girate nel deserto roccioso egiziano di Marsalam. Il motivo per cui siamo qui è molto semplice. L'anno scorso, venni qui a fare degli esperimenti. A mettere in pratica quello che avevo compreso e consapevolizzato negli anni precedenti. Sapevo che qui c'era un posto magico, tra virgolette. Ebbene, così fu. Tutto quello che chiesi in quella piccola vacanza, che feci esattamente in questo posto, nell'anno successivo si realizzò. Allora quest'anno, ho voluto condividere questa esperienza con altri amici. E così è stato. Ho realizzato un piccolo corso. Siamo qui con un manipolo di uomini e donne che vogliono conoscere i veri segreti del segreto. Il segreto della legge dell'attrazione. Imparare a chiedere, imparare a ricevere e approfittare di questo posto magico per poter trasformare i loro desideri in realtà. Tu sarai uno di loro. Sarai nel gruppo. Ascolterai le lezioni. Vivrai i posti. Vivrai le esperienze con noi. Imparerai. Saprai come chiedere. Saprai come inviare. E alla fine avrai conoscenze e nuove consapevolezze che ti permetteranno di poter cambiare la tua vita in meglio. Buonavventura. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spesso si sente parlare di karma. Ma che cos'è questo benedetto karma? C'è una frase in napoletano che la spiega perfettamente. Te la dico tradotta in italiano. E questa frase dice semplicemente se sputi in aria in faccia ti ricade. Questo è il karma. Né più né meno. Ogni azione genera una controreazione. Quindi se fai del male a qualcuno su questa terra prima o poi ti ritornerai indietro. Se fai del bene prima o poi ti ritornerai indietro. a qualcuno su questa terra è un'esercizio. a qualcuno su questa terra e poi a qualcuno su questa terra e qui ritorna non c'è un'esercizio. Non c'è un'esercizio. Ma che cos'è un'esercizio.